Io penso che fuori dal PD non c'è una alternativa utile ai populismi pericolosi che questo Paese rischia di vedere e credo che lo si capisca chiaramente in particolare in queste ore di fronte a un tema delicatissimo come quello della gestione dei fenomeni migratori. Fuori dal PD non c'è l'alternativa, il PD è la vera alternativa e il vero soggetto di cambiamento di questo Paese quindi bisogna aiutare il PD e aiutare il governo, ciascuno ci metta la sua ma noi siamo assolutamente convinti che questo è il terreno vero della sfida e per questo mettiamo in campo le nostre energie e le nostre proposte.